Il più grande appuntamento con l'innovazione internazionale del sud Italia è ospiti a Napoli, dove una rosa di start-up europee ha incontrato i top manager di aziende, enti e istituzioni per condividere buone pratiche e modelli di sviluppo vincenti. L'evento è Go Global Now e parte dallo studio dei migliori casi di successo al mondo per dar vita ad un ecosistema unico europeo. Le start-up più innovative a contatto con i potenziali investitori avranno inoltre la possibilità di volare in Silicon Valley per un programma di formazione imprenditoriale a San Francisco nella scuola della fondazione MindBridge. Napoli sul terreno dell'informazione ha un'esperienza in corso concreta molto diffusa e di grande qualità. È un evento importante perché mette insieme le migliori esperienze e competenze a livello italiano, europeo e anche per certi aspetti mondiale. In più noi ci candidiamo con una parte delle risorse dei fondi del POMMETRO, quindi fondi strutturali 14-20 dedicati alle città metropolitane, a costruire Napoli Valley, cioè ovvero un luogo, un contenitore, una pluralità di azioni, di strutture, tali da fare sì che quando si pensa all'innovazione, come si pensa fino ad ora, si è pensato alla Silicon Valley, si pensi alla Silicon Valley e a Napoli Valley. Quindi l'innovazione cammina con gambe napoletane.